Cani e gatti, come difenderli dai colpi di calore? A rispondere con i suoi consigli è il dottor Giorgio Briganti, veterinario della ASL Toscana Sud-Est. Gli animali domestici, spiega, non sudano e per ripristinare la temperatura corporea aumentano il loro ritmo respiratorio. Se anche questo non è sufficiente, l'incapacità di sudare fa alzare la temperatura del corpo e può provocare il colpo di calore. Alcune razze rischiano di più, in particolare i cani brachicefali, ovvero a muso schiacciato, come i boxer, i bulldog e i carlini, mentre le razze dei gatti più a rischio sono quelle con il setto nasale corto, come i persiani e gli esotici. Le regole sono innanzitutto scegliere l'orario giusto della passeggiata il mattino presto o la sera tardi, scegliere un prato rispetto all'asfalto e assicurarsi che abbiano a loro disposizione un luogo in cui ripararsi all'ombra è una ciotola di acqua fresca. Ultimo avvertimento, forse il più importante in estate, mai lasciare l'animale in macchina. La temperatura all'interno dell'abitacolo dell'auto può raggiungere in pochi minuti livelli molto alti, anche in caso in cui l'auto fosse parcheggiata all'ombra con i finestrini aperti. Se qualcuno dovesse notare un animale, aggiunge il veterinario rinchiuso in un'auto, occorre immediatamente avvertire le forze dell'ordine e una volta liberato, rinfrescare l'animale con dell'acqua fresca e farlo subito visitare.